Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore Originaria di Bologna, Lavalli è sicuramente un volto molto noto del piccolo schermo italiano La giovane ha infatti raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione in qualità di corteggiatrice all'amatissimo dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi Proprio in quel celebre studio televisivo, ha conosciuto il suo attuale marito Marco Fantini con cui ha una bellissima e intensa storia d'amore I due hanno fatto un sopralluogo sulla loro nuovissima casa, e hanno così condiviso qualche scatto con i loro fan Si tratterà di un bellissimo e magico appartamento sito nella città di Milano La coppia ha infatti svelato qualche fotografia della loro abitazione, che è però ancora in costruzione ma che già dà l'idea di una dimora da sogno I followers hanno infatti potuto notare alcuni importanti dettagli, che hanno fatto lasciare senza parole tutti coloro che li seguono I due hanno inoltre svelato che potranno trasferirsi nella loro nuova casa per la prossima primavera, non può chiaramente mancare la tantissima luce che trapelerà dalle finestre e che renderà gli ambienti ancor più luminosi e ariosi Si potrà vedere innanzitutto un grande e meraviglioso open space, che andrà ad unire salotto e sala da pranzo, il tutto sarà circondato da una parete fatta di vetri che renderà l'ambiente sempre accogliente E, impossibile inoltre non notare la grande metratura di cui è fatta la casa, ma anche la presenza di una piscina coperta che andrà ad occupare un'intera stanza dell'appartamento Non mancherà inoltre un terrazzo con giardino da cui è possibile affacciarsi sui grattacieli di City Life a Milano Non si hanno chiaramente informazioni sull'arredamento e sui materiali che verranno scelti dalla coppia, ma sicuramente i due si stanno prodigando per la scelta degli elementi che andranno a riempirla Beatrice Valli e Fantini hanno inoltre recentemente annunciato la gravidanza di lei, e i fan sono al settimo cielo per tutte queste belle novità che stanno accadendo nelle loro vite Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video Fino a quando ci incontriamo nuovamente Grazie a tutti